Ciao ragazzi, appena tornato dalla Games Academy Niente, allora, mi sono procurato qualche cartina bella rara Ho fatto il torneo e sono arrivato quarto Con il mio wind up, che voi tutti dite che fa cagare Zitti che sono arrivato quarto Ho preso un pack di mega... C'era il pack e ho vinto questa La tigre da laboratorio, era l'unica carta rimasta Il primo ha vinto una bus, vabbè Il pack l'ho già fatto aprire dal mio amico Che c'era un mio amico Che aveva due bus Due bus le ha sbustate Ho detto, aprimi il pack, guardate com'è andato Allora, intanto carte nuove sono la tigre secret Che poi vi faccio vedere queste tre che sono le principali Due gold, molto ricercate, una secret Allora, ecco, allora, le commo meno rare Posso dare... questa non la do Questa posso darla, questa non la do Questa posso darla Poi, ecco, ho trovato tre carte Quattro carte che mi servono Il garot per il fedele che non do La seconda tigre è common Che ora ne ho due Posso... non lo so No, quella secret non la do Potrei forse, forse, sotto sotto dare quella common Fate offerte La secret era emergenza E poi altre due common Ne ho stivino Che non do E guardate un po' che mi è uscito J di common Che non do Perché mi butto sul fedele Allora, ricapitolando Allora, qua posso... non posso dare niente Quindi, di questo torneo posso dare due Queste e queste E... ok Poi E queste non le posso dare E neanche queste tre Allora, le due gold sono Un JD Che non do Un TK Che me ne arrivano altri due Quindi non do Così ne ho tre la collezione E una secret Dentro a quest'altra bustina Che ha sbustato il mio amico Ne ha sbustato il due, ve l'ho detto Tadadana Ragazzi La seconda Perché me ne sta arrivando uno da Castelli Alberto 97 Non la do Questa Non la do Questa Non la do No E... Poi vi dico che Tiras e Adreus sono andati Poi è andato anche Il Neos Divino Secret Quindi non è più all'asta È finita l'asta E... Poi cos'è andato? Basta Tutta roba originale Naturalmente Guardate Niente Non del Playmat Perché è Faigo Comprato a 29 E... Che dire Fate offerte per GK Perché lo potrei anche dare Fate offerte se vi serve Che dire Megapack fortunato Lo fate aprire dal mio amico Non so se l'ho detto Quello che ha trovato le due bussi Infatti non ha trovato il JD E qualche carta Che mi serve Cerco carte fedele Tipo le tre ricariche solari La celestia Wolf Laila Aspettate che vado a prendere il trade Una cosa vi faccio vedere Un secondo Vediamo un attimo Allora del trade Aspettate Shhh Allora Dicevo Non mi ricordo Ah l'anguilla Si si è andata l'anguilla Poi di monstri Penso basta Si è andato Leviatano I Adreus e Diras Sono andati i due gacci gacci Il Terrorbyte L'Utopia Dixis Mi è rimasto questo ragazzi Poi qui non è andato via niente Perché era così Di sincrono Non è andato via niente E' andato via un IronMetal Che ho venduto per 5 euro E E basta Poi queste due Vabbè che ho sbustato ieri Che non ho E cerco carte fedele E che dire Nulla di che A più tardi con il trade aggiornato Ciao ciao